Ormai pochissimi giorni ai campionati europei di corsa a campestre, in programma nel prossimo weekend a Bruxelles in Belgio. A difendere i colori dell'Italia, con concrete speranze di vittoria nella categoria Uniorres, anche la giovanissima zoldana Lucia Arnoldo, che ha compiuto 18 anni lo scorso mese di settembre. Lucia è reduce da un anno da incorniciare ricco di successi, a cominciare dalla vittoria dello scorso maggio ai campionati italiani di corso in montagna sui prati di Valmorella-Limana. Proseguito poi con la convocazione nazionale mondiale Under 20 di Innsbruck, dove ha portato a casa una prestigiosa medaglia di bronzo. Ora gli europei, già corsi lo scorso anno a Torino, dove Lucia si appiazzò 32esima, prima delle azzurre. Sono molto contenta di partecipare anche quest'anno ai campionati europei. L'anno scorso erano a Torino, quindi eravamo in casa, l'atmosfera era sicuramente diversa, però vestire la maglia azzurra è sempre un sogno che si realizza, perché insomma poter rappresentare il proprio paese in una manifestazione del genere è sempre molto stimolante. Ora come ora mi sento bene, rispetto all'anno scorso forse la forma fisica è migliore e quindi insomma sono pronta a dare il massimo. Lucia, portacolori di atletica Dolomiti, è allenata da due autentici miti della corsa bellunese, Modesto Bonan ed Elio Dalmagro, tecnico storico e presidente di Belluno Atletica. Per lui il rammarico della mancata convocazione dichiara a Pedol, esclusa per pochissimo, ma la certezza che il viaggio a Bruxelles non sarà da semplici spettatori. Sicuramente non è nel mio, non è nel nostro DNA fare le comparse, è chiaro che l'obiettivo della maglia azzurra è sempre gratificante, ma chiaramente poi si va in campo internazionale e si dà il massimo, come abbiamo dato il massimo a Innsbruck a giugno con il terzo posto dei campionati mondiali di corsi in montagna.